Bene, buonasera a tutti, sono Stefano Lomuzio, cintura nera terzo duang di Kung Fu, tradizionale sinovietramita. Questa sera siamo qui ospiti del Grand Show Sport San Giorgio e siamo onorati di essere qui per dimostrare l'antica arte tradizionale di Kung Fu, derivata dal Grand Maestro Sinovietramita, Maestro Wanam, dove c'è sede in Francia, ad Antib, dal quale come discepoli abbiamo il Maestro Maurizio Massara ad Alessandria come Scuola Butao Italia e del quale io sono riconosciuto ufficialmente dalla Federazione e dalla Scuola Wanam per l'insegnamento e la divulgazione dello stile Wanjapai del Grand Maestro Wanam qui in Liguria. Questa sera siamo qui appunto per dare un piccolo esempio di quello che può essere le arti tradizionali cinesi con forme tradizionali a mani nude, con armi, combattimenti prestabiliti, combattimenti agonistici, combattimenti dimostrativi, acrobazie e anche lo sviluppo dell'energia interiore con metodo Qigong e parte della respirazione. Sono orgoglioso e fiero di essere in questa grande fiera per poter così avere modo di divulgare e rendere così partecipe anche il pubblico a questo grande nostro impegno che stiamo dimostrando nelle arti tradizionali. Grazie, buona serata.